E' stato un episodio a tratti inaspettato, non credevo che avremmo avuto in questo episodio la rivelazione da parte di Takamichi sul fatto che lui viaggiasse nel tempo, iniziamo proprio dall'inizio, ovvero nella parte iniziale purtroppo si conferma la solita cosa che vi dico ormai da un po' di episodi, ovvero Takamichi che come al solito non fa niente, si fa picchiare, mette nei casini le altre persone, e in questo caso praticamente è stato lui il motivo per cui Akai avrebbe lasciato la Toman, quindi ancora una volta Takamichi è la causa di ogni male, perché appunto Akai ha dovuto sacrificarsi per salvarlo, tra l'altro molto bello come Ina, non lo so, in questo caso il buonsenso, sembra che in questo anime manchi il buonsenso, cioè Ina piuttosto che dire, sai che stanno per uccidere il mio ragazzo, chiamo la polizia, cioè è la cosa più normale, lei no, si mette in mezzo, come se questa cosa risolvesse il problema, mi metto in mezzo, lo proteggo io, madonna santissima, e fai qualcosa, cioè nel senso non dico ovviamente che deve arrivare la polizia, però almeno prova a fare qualcosa che, l'unica cosa che puoi fare in questa situazione è chiamare la polizia, boh, non lo so, vabbè, lei ovviamente si mette in mezzo e fa le sue cose, per il resto, Takamichi ha le sue solide rivelazioni dopo due ore in cui si ricorda le cose che dovrebbe sapere fin dal principio, ma è normale, Per quanto riguarda anche la cosa dei genitori che avevo detto in questo frangente, anche questo non è una cosa proprio da così scontata, che come dire, i genitori non esistano, anche perché più che altro se ci pensate, hai un figlio che ogni due per tre si ritrova con cicatrici, picchiato, rischia di morire, fa parte di una gang pericolosa, e giustamente, insomma, i genitori se fossero esistiti avrebbero penso avuto qualcosa da ridire, quindi o appunto Takamichi è orfano oppure hai genitori fatalmente schifo che non lo vogliono vedere, quindi stanno per i fatti suoi, questa è la mia ipotesi. Per il resto, diciamo che la rivelazione in merito a Chifuyu è stata interessante, è stata interessante e credo che potrebbe anche rappresentare una bella svolta per l'anime di Tokyo Revengers, se non fosse che non mi sono piaciute due cose di questa rivelazione, di questo vuotare il sacco da parte di Takamichi. La prima è questa qua, ovvero, Chifuyu dice a Takamichi, vieni con me, ti devo dire una cosa, si fermano e voglio un attimo capire cosa gli dice. In realtà no, Chifuyu gli voleva solamente dire, godiamoci questi momenti, cioè la frase è proprio questa, non è quello che volevo dirti, voglio solo che ci godiamo tutto questo. Quindi, nel senso, Takamichi, cioè, Chifuyu l'ha portato via per dirgli, Takamichi dai, prenditela tranquilla, godiamoci la vita, tutto così, e Takamichi tutta la risposta dice, ma sai che c'è? Cioè, io vuoto il sacco, io racconto tutto, ma più che altro sta scena, secondo me, ci poteva pure stare, però non l'hanno resa abbastanza bene, cioè, dovrebbe essere una cosa molto importante il fatto che Takamichi rivela tutto il suo trascorso, il fatto che viaggia nel tempo, tutte le cose che sapeva a Chifuyu, mi è sembrato un po' come se l'avesse tirato fuori dal nulla. Quindi Chifuyu gli dice, oh sai che c'è Takamichi, passiamo dai bei momenti insieme, e Takamichi, mmm, io vengo dal futuro. Cioè, nel senso, non lo so, forse serviva una situazione diversa, un momento diverso per raccontarglielo, mi è sembrata proprio una roba un po' buttata lì, cioè, alla prima occasione che è venuta in mente, Takamichi, ma sai che c'è? Boh, glielo dico, glielo dico, mi tolgo il pensiero. Anche perché ricordiamo, come ha detto anche Takamichi, che parlare di questa cosa, cioè dire a un'altra persona che lui viaggia nel tempo, influenza il futuro, perché se un'altra persona del passato sa che tu vieni dal futuro, o comunque se tu a Chifuyu gli dici, oh, ma lo sai che chissà chi ti ucciderà in futuro? È normale che il futuro cambia, perché Chifuyu cercherà di non farsi uccidere, a meno che non è stupido. Quindi non l'ho ben capito, cioè, mi viene solamente da pensare che Takamichi è un coglione, come al solito, che si è lasciato un po' trasportare dall'emotività ma appena Chifuyu gli ha detto, oh, godiamoci questi momenti, Takamichi, Chifuyu, morirai, che cosa faccio? Basta, glielo dico, cioè, mi è sembrato un po' così, Takamichi proprio preso un po' dall'emotività, ha detto, oh, sai che c'è? Diciamoglielo, boom, tanto non c'ho niente da perdere, nonostante non sapeva appunto quali sarebbero state le conseguenze. Poi, la parte in cui dice uno scherzo, tralasciamo, non ne voglio neanche parlare, ripeto, è una cosa che ci sta, secondo me. Cioè, prima o poi, potevo aspettarmi una cosa del genere, anche perché, altrimenti, considerando lo sviluppo che sta avendo Takamichi, fino ad ora che è pari a zero, avremo continuato a vedere sempre le solite cose, lui che fa il coglione, che non si ricorda le robe, che non riesce a sistemare manco il laccio delle sue scarpe, quindi, almeno adesso che ha Chifuyu come alleato, si spera che riuscirà a risolvere molte più situazioni, che riuscirà, ma non tanto Chifuyu, perché magari non è manco così intelligente Chifuyu, però, quantomeno è una persona con cui confrontarsi, non è da solo, non è da solo con il suo cervello ultra sviluppato, ma può fare affidamento su qualcun altro, che gli dà dei pareri, con cui si scambia informazioni, e che magari, insomma, non è così coglione come lui, come Takamichi. Quindi, secondo me è una cosa interessante, solo forse mi sarebbe piaciuto che l'avesse raccontato in una situazione un po' diversa, mi è sembrato proprio buttato lì, tipo, sai che c'è, siamo arrivati alla seconda stagione, bisogna smuovere un po' le cose, lo dico, lo dico così succedono robe. Forse sarebbe stato meglio in situazioni un po' diverse, un po' più, come dire, in situazioni un po' più tese, in cui magari Takamichi era proprio con le spalle al muro, che diceva, ma non so proprio cosa fare, non so proprio come uscire da questa situazione, devo farmi aiutare da qualcuno. Qua invece mi è sembrata solamente una cosa emotiva, tipo, ma Chifuyu mi sta simpatico, glielo dico. A metà episodio Takamichi diceva di voler fare da solo, esatto, esatto, a metà episodio, come dice Sirion, Takamichi ha detto, devo fare da solo, devo farcela, non voglio fare affidamento sugli altri. Alla fine dice, sai che c'è, sai che c'è, mi faccio aiutare da Chifuyu. E mi sembra veramente una cosa proprio emotiva buttata lì, perché Takamichi è un coglione, bah, cioè, non ci sono altre motivazioni. Poi diciamo che anche il piano che ha avuto, cioè Chifuyu è un bel personaggio, mi sta simpatico, e appunto spero che d'ora in poi darà una grossa mano a Takamichi per quanto riguarda situazioni future, però, boh, in questa circostanza non ho ben capito perché ha fatto queste cose. Cioè, non ho ben capito perché gli ha consigliato di dargli un panino a Mikey, ha detto, dai un panino, primo piano, dai un panino a Mikey. E vabbè. Secondo piano, buonsenso. Vedete, gli sta dicendo improvvisa. Forse si poteva aspettare, poteva fare qualcosa di più pure Chifuyu, sinceramente, però vabbè. E per il resto, interessante comunque che alla fine, lui manco mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque, il capitano della seconda divisione ha deciso di non far andare via Akai, quindi, boh, vediamo un po' cosa succederà nei prossimi episodi. Però, boh, cioè, è comunque interessante, almeno è uno sviluppo in più, una sorta di, una novità, una novità rispetto al solito Tokyo Revengers, adesso che sono in due, a formulare i piani, a fare le robe. Però, non lo so, non mi ha convinto molto. Questo è l'autore che non sa scrivere con logica, sì, ma, più che altro, mentre vedevo anche la prima stagione, ogni volta mi chiedevo, ma perché Takamichi fa queste cose? Cioè, non poteva, non lo so, non poteva sforzarsi un po' di più a farlo sembrare un po' meglio come personaggio. Quindi, no, non so se, appunto, è l'autore che vuole proprio indirizzare tutto l'odio delle persone su Takamichi, o se, semplicemente, come avete detto pure voi, non so, gli sfugge pure a lui queste cose qua, però, vabbè. Il momento in cui rivela tutto non è nemmeno malaccio, però perché, poi ha dovuto dire, sai che c'è, stavo scherzando. Anche quello, cioè, se il momento in cui ha rivelato questa cosa poteva ancora ancora essere passabile, anche se a me non è piaciuto lo stesso, Poi anche nel momento in cui dice, sto scherzando, ti fa proprio cascare i coglioni. Cioè, ti fa proprio capire che è stata una cosa emotiva. Cioè, che di punto in bianco lui ha detto, basta, glielo dico, glielo dico, mi piace, ci fuglio, è mio amico, glielo dico, glielo ha detto. E dopo qualche secondo, no, che cazzo ho fatto, non glielo dovevo dire, non glielo dovevo dire. E si è inventato sta cazzata della, è uno scherzo, è uno scherzo. Dai, è veramente, è proprio triste, è proprio triste. E, vabbè, quindi in realtà questo è l'episodio, credo che avremo quindi nei prossimi episodi questa guerra con i Black Dragon. Vedremo un po' come si articolerà la vicenda. Mi fa ridere comunque che Takemichi, nonostante venga dal futuro, non sa mai un cazzo. Cioè, se ci pensate, a parte il fatto che lui sa che Akai ucciderà il fratello, non sa nient'altro. Cioè, anche volesse elaborare un piano, anche volesse fare qualcosa di un po' interessante per prevenire robe, non può fare un cazzo. Cioè, l'unica cosa che può fare è stare attaccato al culo di Akai, come è successo, vi ricordate, con Bagi. Anche se in realtà l'anba, vabbè, vi ricordate che se l'è pure perso, se l'è pure perso di vista Bagi. Cioè, lui, vi ricordate, nella prima stagione si ricordava Bagi non deve morire, non deve morire Bagi, in questa situazione morirà. Appena inizia lo scontro, dov'è? Oddio, dov'è Bagi? Non lo vedo più. Quindi, vabbè, quindi, in questa situazione anche penso che l'unica cosa che potrà fare è stare attaccato al culo di Akai e sperare che non uccida il fratello. Cioè, che deve fare? Intanto la guerra ci sarà. Lui sa che morirà il fratello di... il capo dei Black Dragon e non può fare nient'altro. Non ha molte informazioni, quindi, anche qua, anche Nagi, si chiamava Nagisa, forse si chiamava Nagisa, Nagisa, il fratello poliziotto. Cazzo, ma gli poteva dare qualche informazione in più? Cioè, qualcosa su cui lavorare, un minimo di piano, un qualcosina. Anche volesse, ripeto, Takamichi non credo che potrebbe fare chissà cosa, però, boh, speriamo che almeno ci proverà, speriamo che almeno a sto giro riuscirà ad impedire che muoia il capo dei Black Dragon, anche perché per adesso la cosa principale che doveva fare, ovvero impedire che morisse Bagi, non gliel'ha fatta. Quindi, boh, magari stavolta ce la farà, magari no, chi lo sa, chi lo sa. Cioè, è stata pure carina la cosa che ha rivelato, appunto, il... questa cosa qua, Takamichi. Però, 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 boh, non mi convince molto di dei sette e mezzo. Io stavo pensando più allo stesso voto. Vediamo. Per adesso, famo che per adesso rimango sul sette e venticinque. Vediamo voi che voto avete dato. Per un totale di sette spaccato. Beh, il vostro voto è un sette spaccato. E quindi, regà, non credo proprio che daremo sette e mezzo a sto episodio, sinceramente. Anche perché, ripeto, fosse stato ancora ancora che questa parte era bella, la parte della rivelazione, vi avrei detto ok, però non mi ha convinto così tanto la parte in cui ha rivelato a Cifuio tutta la faccenda. Quindi sì, sette e venticinque. Questo è quanto, quindi. Nel senso, Tokyo Revengers continua a farci vedere cose particolari. Io continuo a sperare comunque che questa stagione avrà qualche momento bello, perché la fine di Tokyo Revengers non è merda. C'ha quelle sue parti belle, però... Io continuo a dire che Takemichi, finché non si dà una svegliata, non riuscirò proprio a farmelo piacere. In nessun modo.